Freccia! Freccia! Aspetta lei, non crederà mica nè! Andate via! Guglia, giù! Ma è tutto chiaro, eh? Onorio quei bastardi dei mastigliesi! Che ve ne pare? Precisi sono! Ci danno 10 milioni al mese e più ci fanno fare questa bella vita! Bedda, ma cotta! Siete puliti? Io si, guarda! Mamma mia, che dolore! Vada! Ha detto il padrone che se convidiamo altri casini dobbiamo stare qui ancora un anno Sì, ti è! Siedimi Sì! 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 Sì!